Quindi, ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Tutti noi, in quanto a essere benedetti da Dio, dotati di ragionamento, intelligenza e giudizio, dovremo riconoscere la nostra responsabilità di fronte a Dio. La vita che ci ha dato è una responsabilità sacra e nessun momento è da prendere con leggerezza. Non solo saremo responsabili per quello che facciamo, ma anche per quello che abbiamo tralasciato di fare. L'amore del piacere, l'autoesaltazione impediscono di imparare le preziosi lezioni di vita che Cristo vuole darci. Il dovere del cristiano non è quello di modellarsi in base all'ambiente e alle circostanze, ma vivere al di sopra di questi fattori, formando il suo carattere a secondo del modello divino. Deve essere fedele ovunque si trovi. Se abitate in Cristo, non sarete maleducati, disonesti o sleali. La croce taglia tutte le passioni e le pratiche che non sono coerenti con la santità di Cristo. Qualunque sia la natura del vostro lavoro, fate vostri i principi di Cristo e identificatevi con il compito che Egli vi ha affidato. Il nostro interesse sarà lo stesso del nostro datore di lavoro. Il tempo per cui siamo pagati non è nostro, ma appartiene a Lui. Se lavoriamo male, se siamo distratti, se perdiamo tempo, saremo registrati nei libri come servi infedeli. Buona giornata. Grazie a tutti.